Siamo nel dopopartita dello stadio Antonio Puccio tra il Caraffa e il Borgia assieme in compagnia del mister Antonio Mirarchi, tecnico del Caraffa che per qualche minuto è stato in testa al classifico con lo scandale prima del gol dello scandale a Sellia Marina. Mister, chiediamo una bella vittoria anche nel risultato finale con una squadra molto attenta. Una bella vittoria con una grande squadra che è candidata alla vittoria finale insieme a altre tre squadre del campionato tipo Scandale, Rocca di Netto, Santa Severina, Atletico Maite sono diverse le squadre che puntano alla vittoria finale. Però noi, ripeto, non è questo l'obiettivo iniziale per il Caraffa però adesso siamo lì e stiamo cercando di fare del nostro meglio contro squadre di questa portata quale il Borgia e Rocca di Netto sono squadre di tutto rispetto quindi siamo contenti di questi risultati andiamo avanti per la nostra strada e cercheremo adesso in virtù della sosta di allenarci bene perché domenica prossima riposiamo, ci spetta il turno di riposo e quindi speriamo che i ragazzi si possano allenare al meglio per continuare questa serie positiva. Una squadra attenta in difesa nonostante l'assenza di commisso al centrocampo e De Masi in difesa comunque è stata molto attenta in difesa e propositiva in attacco con un Sulla che sta piano piano tornando ai suoi livelli. Ha detto bene lei, la difesa è stata molto attenta, ha lasciato poco spazio nonostante l'assenza di De Masi che era fuori per infortunio e comunque devo elogiare i ragazzi tutti quanti perché hanno svolto una gara alla terza selezione e Sulla che sta tornando ai suoi livelli speriamo che presto con i suoi gol ci possa aiutare a fare meglio. L'esordio del portiere di Sio pure positivo e quindi la squadra si completa praticamente e quindi qual è l'obiettivo adesso? Non ci possiamo più nascondere, non siete più una sorpresa. Noi tireremo le somme a fine andata e poi vedremo parliamo con la società però adesso l'obiettivo sarà, non è una bugia ma il nostro obiettivo iniziale era la salvezza ci troviamo in questa posizione, siamo contenti di esserlo e cercheremo di fare il meglio poi tireremo alla fine la somme.